Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Cristiano Malgioglio sta attraversando un periodo difficile a causa della perdita improvvisa della celebre cantante Françoise Hardy, scomparsa all'età di 80 anni dopo una lunga malattia. Malgioglio ha espresso il suo dolore tramite Instagram, condividendo una foto della cantante e ricordando il loro legame professionale e personale. Ha descritto Hardy come un'icona della musica francese, nota per il suo brano Tulles Gerconset Les Phil e per le sue partecipazioni al Festival di Sanremo. Tra le sue collaborazioni, Malgioglio ha scritto per Hardy la canzone Messaggio Personale, esprimendo la sua gratitudine per aver avuto l'opportunità di lavorare con lei. Hardy ha lasciato un segno anche in Italia con successi come All'amore che penso, L'età dell'amore e L'amour se m'ha.